In un angolo a picco sul mare si staglia l'elegante profilo de La Ripetta Hotel di Sorrento, che vi offre il contesto ideale in cui ambientare l'evento più speciale della vostra vita. Ideale per il vostro aperitivo è la terrazza Blu Romance, per poi passare alla capiente sala, restaurata nel 2014 dalla capacità massima di 150 coperti. Impreziosita dalle vetrate che si affacciano sull'incanto del mare sorrentino, vi offrirà una vista mozzafiato sull'inconfondibile silhouette del Vesuvio e sulle isole di Ischia e Procida. L'esperienza nell'accoglienza e nella gestione della famiglia Aiello, titolare di questo splendido complesso, faranno la differenza nell'organizzazione del vostro ricevimento, mettendovi a disposizione anche un valido wedding planner, che si incaricherà di soddisfare ogni capriccio dei novelli sposi, con gusto ed eleganza. La ripetta Hotel Sorrento mette a vostra disposizione, su richiesta, angoli a tema per l'intrattenimento dei vostri ospiti, che andranno dal photobooth alla baby animazione, ma anche la confettata e lo spazio cubano. Inoltre sarà possibile coinvolgere i vostri invitati con uno spettacolo di tarantella sorrentina, con personaggi tipici napoletani come il pulcinella e il pazzariello, spettacolo di animazione con artisti e posteggia napoletana con chitarra e mandolino. La professionalità del servizio si unisce alla gustosa offerta di prelibattezze tipiche della cucina sorrentina e alla sapiente presentazione dei piatti, creazioni che sapranno incantare ognuno dei vostri ospiti. L'hotel offre ai suoi ospiti due tipologie di camere per il soggiorno in loco, tutte affacciate sullo stupefacente scenario del Golfo di Napoli, con sorrento e punta campanella come limite estremo e col rinomato profilo dei faraglioni di Capri.